Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video, è letteralmente esploso il bubone Inter, è finito finalmente su alcune pagine dei giornali, di qualche giornale tipo il giornale appunto, che ci viene a raccontare i conti dell'Inter e ci viene a dire che quello che fino adesso gli abbiamo raccontato un po' noi youtuber giuventini. In primis Sergio Vessicchio, subito dopo io, che abbiamo parlato e approfondito l'argomento dell'Inter, dei suoi debiti, del fatto che teoricamente non potrebbe partecipare al campionato italiano, ma non solo partecipa, lo guida pure. E a capo di tutta questa organizzazione criminale di stampo calcistico c'è Gravina, il presidente della federazione interrista Gioco Calcio. Metti un bel like, commenta con il tuo pensiero e soprattutto condividi a manetta questo video perché ormai è esplosa letteralmente la bomba. Le tifoserie non ci stanno più, è chiaro sotto gli occhi di tutti che l'Inter deve essere portata fino ai livelli più alti. Perché? Perché dovrebbe portare i libri in tribunale per tutto quello che ha fatto, per tutti i debiti che ha, per i campionati a cui si è iscritta dove non poteva iscriversi. E invece, grazie proprio ad alcuni personaggi molto molto influenti, l'Inter continua ad andare avanti, ma adesso il giornale l'ha sputtanato, ha fatto un po' quello che stiamo facendo noi. Siamo riusciti da piccoli youtuber a tirare fuori la notizia e a parlarne, riparlarne, riparlarne, portarla alla conoscenza di tutti voi che avete fatto un lavoro magnifico, solo e esclusivamente condividendo i nostri video. Fino a tal punto che anche qualche giornalista, che non è a soldi dei merdazzurri e ce ne sono ormai pochissimi, si è deciso di scrivere qualcosa sulle pagine del giornale. Il giornale ci racconta che con i debiti che ha l'Inter non potrebbe partecipare a nessun campionato, i libri dovrebbero portarli in tribunale e dichiarare fallita questa squadra. Squadra che l'anno scorso è stata accompagnata fino alla finale di Champions League e che quest'anno, grazie ad un calendario molto strano fatto da Andrea Buzzi, abbiamo parlato molte volte, ex addetto ai lavori dell'Inter che adesso fa stranamente i calendari per la Lega, per la Serie A, sì appunto. Stranamente l'Inter nelle prime dieci giornate non incontra nessuno, se non il Milan in casa tra l'altro. Ma il Milan in questo momento poca roba, per non parlare dei favori che dovrebbe avere la Juventus perché non giocando le coppe dovrebbe poi arrivare alle partite decisive più riposata. Stranamente non ha mai incontrato nessuna delle squadre che gioca in Champions League nei giorni prima o dopo le partite di Champions League. E' una cosa strana perché quando la Juve partecipava alla Champions League dopo aver giocato contro il Real Madrid in Champions ci toccava tre giorni dopo o tre giorni prima il Napoli, l'Inter, a volte anche il Milan. In questo caso invece è il calendario fatto ad hoc stranamente. Vi dissimo che deve fare dei risultati l'Inter per portare a casa quanti più soldi possibile perché i loro debiti sono mostruosi. Si parla di un debito di un miliardo e mezzo circa per quanto riguarda la proprietà dell'Inter e il profondo rosso si è chiuso a 180 milioni di euro circa l'anno scorso che non ha modo di essere ricapitalizzato. Sappiamo che il presidente dell'Inter si trova agli arresti in Cina, sono sei mesi che non si hanno notizie e adesso anche Marotta comincia a tremare perché si sente solo e abbandonato. Naturalmente ci sono sempre i giornali che scrivono che all'Inter va tutto bene, che è una squadra che funziona alla grande però i conti sono quelli. E ai tifosi milanissi che si stanno aggregando al risveglio ci sono tanti tanti tifosi di tantissime squadre che non ci stanno più a vedere questa ingiustizia. In primis i nostri amici meridionali come me, non proprio come me perché io sono un pochettino più giù, calabresi, che non ci stanno a vedere la propria squadra, la regina che non può giocare in Serie B proprio per la metà della metà della metà dei debiti che ha l'Inter. E allora il protocollo funziona, l'Inter deve andare avanti mentre le altre squadre vengono punite. Ci si è messo anche Kine che ha raccontato praticamente che la procura di Torino ha lavorato benissimo mentre per quanto riguarda le altre squadre le procure non hanno trovato nulla. Peccato, attenzione, che c'è un affare Osimène, Napoli, Lille, che ancora grida vergogna e vendetta, dove addirittura c'è pure la testimonianza del ragazzo valutato 7 milioni di euro al giornale La Repubblica dove racconta che lui appunto a Lille non ci è mai andato e questa è stata soltanto una mossa per fare plus falenze, non fittizie, ma fasulle. Peccato che pur avendo questa intervista Kine non ha ritenuto di dover intervenire. Anzi, a dirla tutta, prima ha chiesto Kine, sei mesi di proroga per poter fare le giuste indagini dopo che hai anche non l'intercettazione ma proprio hai la dichiarazione del calciatore che dice io lì non c'ero ma è stata la confessione. Chiede sei mesi di proroga, lascia vincere tranquillamente il campionato al Napoli con Osimène che diventa capocannoniere quindi trascina in Napoletania a vincere il terzo scudetto in cento e passa anni di vita e lì non ci sono elementi sufficienti per poter aprire un'indagine perché tutto praticamente è stato chiuso e io ne ho parlato in tanti video e voi ormai lo sapete l'affaro Osimène è finito tutto in una bolla di sapone. Adesso ci provano anche con l'Inter perché si sta cercando in tutti i modi ed è chiarissimo di accompagnare questo brand fino al cambio, al cambio di proprietà cambio di proprietà che non può arrivare e difficilmente arriverà perché una squadra con tutti questi debiti teoricamente dovrebbe essere chiusa, fallita, finita devi trovare qualcuno che si accolla tutti questi debiti e poi ancora stanze a dei milioni di euro per poter fare mercato ma in tutto questo i giornali ci dicono che l'Inter si muove anche sul mercato quindi sono indebitati con i libri che dovrebbero essere portati in tribunale ma i media ci raccontano che va tutto bene. Tra l'altro ha parlato qualche giorno fa anche un avvocato, un giurista che ha detto che in qualsiasi altro ambito, qualsiasi altra holding, qualsiasi altra azienda che si trovasse in queste condizioni a quest'ora avrebbe già portato i libri in tribunale Damo, l'Inter è una squadra che già avrebbe dovuto depositare i libri in tribunale nel 2006 quando si è iscritta a un campionato non potendolo fare proprio per i debiti che aveva proprio perché non ci stava dentro a quello che adesso chiamano il fair play finanziario però attenzione perché quando riguarda la Juventus dobbiamo andare a vedere le plusvalenze e dobbiamo andare a vedere perché avete fatto intrallazzi per poi il 6% del fatturato la Juventus ricordiamo che le plusvalenze hanno poi inciso per il fatturato solo sul 6% mentre l'Inter ormai si sono persi i conti detto questo ormai il bubone esploso dobbiamo soltanto far girare questa notizia dobbiamo soltanto far risvegliare anche gli amici merdazzurri che ormai vivono nel mondo di Narnia come dice qualche youtube di quelli bravi e quindi è ora di far girare il video condividete a manetta e come sempre naturalmente il vostro commento è fondamentale per cercare di capire quanti di voi mi stanno aiutando in questa battaglia il video finisce qui io vi ringrazio se siete arrivati fino a qua siete dei super eroi non mi rimane che come sempre mettere un bel like commentare con il vostro pensiero iscrivervi al canale attivare la campanellina e condividere a manetta io vi saluto ciao a io